muoio innocente perdono di cuore coloro che mi hanno fatto del male e anche voi che state per sparare sono le ultime parole di don giuseppe boria pronunciate di fronte al plotone di esecuzione che il 9 febbraio 45 a 78 giorni dalla liberazione di piacenza posi fine alla sua vita parole altissime parole che lo assimilano a cristo un sacrificio ultimo parole che parlano di una capacità di perdono sovrannaturale che ci fanno parlare di martirio don giuseppe boria è uno dei cinque sacerdoti piacentini che insieme a un seminarista sono state vittima della dell'occupazione nazifascista in italia nel tempo della resistenza parroco ad obolo gropparello in val darda dal 37 don bore è stato un parroco molto amato molto ben voluto sempre dalla parte degli ultimi ha condiviso la vita anche di povertà della sua gente si è speso perché le condizioni immateriali dei suoi parrocchiani migliorassero ad esempio facendo ha fatto in modo che la luce elettrica arrivasse ad obolo li ha curati quindi non solo da un punto di vista spirituale e pastorale poi si è dedicato moltissimo alla formazione in particolare alla formazione dei giovani attraverso l'azione cattolica e proprio per la sua appartenenza all'azione cattolica fu più volte minacciato dai gerarchi locali nel giugno del 44 don giuseppe voria diventa cappellano della 38esima brigata della divisione val darda comandata da giuseppe prati il fronte della guerra si è spostato sulle montagne è iniziata la resistenza organizzata anche in val darda e don giuseppe si distingue come cappellano quale avamposto di pietà di misericordia di umanità di carità la porta della sua canonica è sempre aperta per tutti anche per uomini del dell'altro fronte non di quello partigiano per chiunque avesse bisogno e il libro don giuseppe boria quando l'amore più forte dell'odio racconta raccoglie molte testimonianze di uomini e donne che lo hanno conosciuto che lo hanno amato che sono state protette da lui che sono state salvate che hanno ricevuto anche soltanto una carezza in un momento particolare in un momento di grande sofferenza è lui ad essere il garante nel momento in cui c'è lo scambio dei prigionieri è lui ad andare a raccogliere i resti cadaveri dei partigiani uccisi che secondo le volontà dei tedeschi dovevano rimanere insepolti e a riportare e a portarli nella sua canonica lui li lavava del sangue lui li ricomponeva li benediceva e celebrava le esequie andava dai genitori dalla famiglia di questi giovani a dare purtroppo la terribile notizia della morte dei figli è ancora lui ad assistere alle esecuzioni dei condannati a morte in questo caso a raccogliere un ultimo bacio un ultimo abbraccio le ultime parole da portare ai parenti a una moglie a un padre a un figlio. Don Giuseppe Bori ha fatto tutto questo con grande dedizione non si è mai tirato indietro ha combattuto con le armi della carità il 28 gennaio 1945 Don Borea viene arrestato e viene sottoposto a un processo iniquo in cui non gli viene data la possibilità di difendersi c'era una lista lunga lista di testimoni ex prigionieri fascisti che lui aveva visitato e che volevano testimoniare a suo favore ma la sentenza della condanna a morte era già scritta è stato calugnato è stato si è tentato di togliergli la dignità in ogni modo ed è stato condannato a morte perdono di cuore coloro che mi hanno fatto del male e anche voi che state per sparare queste parole di Don Giuseppe Bori rappresentano la cifra l'espressione di un'intera esistenza donata agli altri e donata a Dio proprio perché Dio potesse rimanere al sicuro tra le sue mani di sacerdote santo